Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Il presidente vicario della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha incontrato ieri il personale di segreteria di presidenza nella sede di Viale Bovio a Pescara. Lolli ha illustrato i criteri e le modalità con cui vuole gestire le attività dell'ente e ha assegnato ad ogni componente un ruolo sulla base delle competenze personali e delle necessità relative alla preparazione dei prossimi bandi per i fondi europei. Punteremo soprattutto su due aspetti, ha detto, completare la messa in ordine dei conti della regione e dare un'ulteriore accelerazione all'impiego delle risorse comunitarie. Inoltre cercheremo di essere presenti laddove vi siano situazioni problematiche o di disagio. Penso, ha detto ancora il presidente al termine della riunione, alle tante crisi occupazionali e alla ricostruzione post-sisma, ma anche alla sicurezza delle infrastrutture al sociale e alle emergenze ambientali. Il movimento contro quelle che definisce le opere inutili, costose e dannose del comparto gas riunito nel coordinamento no-hab del gas rilancia la lotta con un campeggio nazionale che si terrà a Campodigiove in provincia dell'Aquila nella Parco Nazionale della Maiella dal 30 agosto al 2 settembre. Passeggiate, incontri pubblici, concerti, assemblee, riunioni tecniche, presentazioni di libri e video. È ampio il programma dell'iniziativa aperta a tutti i cittadini e gli attivisti provenienti da tutta Italia. Il tema del terremoto sarà al centro della prima giornata, quella cioè di giovedì 30 agosto. Il giorno dopo sarà la volta degli approfondimenti sulle singole vertenze in corso. Sabato poi ci sarà una grande assemblea aperta per decidere il futuro delle lotte. E domenica sarà la volta dell'incontro sulle molteplici battaglie vinte a favore della salute dei cittadini e della difesa dell'ambiente. il ricco programma è stato reso noto dalle associazioni aderenti. La cronaca parla anche a nome della comunità senegalese Patrick Guabadia, responsabile regionale immigrazione della CGL Abruzzo, che lo fa alla luce della violenza sessuale che sarebbe stata consumata in zona stazione a Pescara da parte di un senegalese di 61 anni nei confronti di una donna di 39. La comunità senegalese dice e a dir poco affranta per l'accaduto. Conosciamo quell'uomo, ha dei problemi di alcolismo ed è noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia, ma non crediamo alla violenza sessuale alle due del pomeriggio, quanto piuttosto una lite che naturalmente condanniamo ugualmente. Il nostro pensiero va anche alla Signora e convocherò in settimana la comunità senegalese. Non vogliamo però che si assista alla caccia all'uomo nero. Perciò stiamo organizzando una grande manifestazione contro la discriminazione. Noi difendiamo solo gli immigrati che vogliono integrarsi nel territorio e rispettano le regole. Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo della Riserva Naturale d'Annunziana. Previsione e programmazione di attività e di educazione ambientale per consentire alla città di vivere quello spazio. Caratterizzazione ambientale delle concessioni demaniali inserite nel piano. Sono gli emendamenti predisposti con l'Associazione Ambiente e Vita che il centrodestra presenterà in Consiglio Comunale a Pescara al piano di assetto naturalistico che nel frattempo non approderà più in aula mercoledì ma che è stato rinviato a data da destinarsi per concedere alle associazioni ambientaliste il tempo necessario per presentare proposte di modifica. Resta, dice il centrodestra, l'amarezza per un piano arrivato con un ritardo di quattro anni e mezzo rispetto alle promesse dell'assessore Marchegiani e che arriva quando la legge non potrà più essere approvata dal Consiglio regionale ormai sciolto per responsabilità del Presidente D'Alfonso che ha scelto di fuggire in Senato. Tradotto, passerà almeno un altro anno prima di poter dare sostanza al PAN. Lo hanno detto i gruppi consigliari di Forza Italia, Pescara Futura, Fratelli d'Italia e Lega in una conferenza stampa convocata per presentare gli ammendamenti a questo provvedimento con il Capogruppo di Forza Italia in Regione, Lorenzo Sospiri, e il Presidente dell'Associazione Ambiente e Vita, Benigno Dorazio. Si è svolto ieri nella ludoteca Thomas Dezzi l'incontro con le associazioni che operano nell'area dell'ex quartiere 3 della città di Pescara e i rappresentanti del neonato comitato cittadino voluto dall'amministrazione per iniziativa del Sindaco Marco Alessandrini e del Vice Antonio Blasioli con l'assessore al sociale Antonella Allegrino all'indomani della rissa che aveva ridotto in fin di vita un residente di nazionalità nigeriana. Scopo dell'iniziativa è quello di continuare a promuovere confronto e iniziative condivise sulle quartiere inerenti sicurezza, sociale, cultura da portare avanti e promuovere nella zona di Via Largo di Borgiano e nelle zone limitrofe. È stato un incontro utilissimo a ricalibrare priorità e iniziative, ha detto il Sindaco Alessandrini. Sin dall'insediamento ha aggiunto abbiamo cercato e promosso sinergie con la realtà associativa che lavora in questa periferia, luogo che non c'è mai stato indifferente. È sempre più ricco il parco mezzi da esposizione del Museo del Treno di Montesilvano classificato dalla legge regionale numero 44 del 92, sito di interesse locale e regionale. A partire da ieri, infatti, la piazzale museale accoglie anche una locomotiva elettrica che si affianca a quelle a vapore e diesel e ad alcuni carri e due vetture postali delle ferrovie dello Stato. Il Museo del Treno, afferma il Sindaco Francesco Maragno, è un prezioso fiore all'occhiello del nostro territorio. Con il potenziamento del parco mezzi e l'ormai prossima inaugurazione della tettoia, che ha ancora più abbellito la struttura e migliorato i servizi a disposizione degli utenti, questo museo diventa sempre di più un luogo da visitare, capace di attirare l'attenzione di grandi e piccini, dove ripercorrere le più importanti tappe nell'evoluzione dei mezzi, dello sviluppo della ferrovia, dei collegamenti e quindi del territorio stesso. Il prossimo 7 ottobre sarà ufficialmente inaugurata la nuova tettoia. Nell'occasione giungerà un treno storico della tratta Chieti-Montesilvano. Oggi è martedì 28 agosto e la Chiesa celebra la memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nella diocesi di L'Aquila si celebra oggi la 724esima edizione della perdonanza celestiniana. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Pietro Leone. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso al mattino e nelle ore centrali, nuvoloso nel primo pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 22 a 28 gradi e 22 deboli e moderati. E nelle zone interne cielo sereno fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinata e nelle ore centrali, molto nuvoloso nel primo pomeriggio e sereno nel resto della giornata con temperature da 19 a 26 gradi e 20 deboli. il mare è previsto poco mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie per averci seguito. Buon proseguimento del giornale. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.